Benvenuti nella splendida sede del Musical Weekend, la sede romana del Musical Weekend. Il Musical Weekend ha due sedi in Italia, una a Milano presso il Teatro Belloni e una a Roma al Santa Rita, che è una splendida villa dei primi del Novecento, dove adesso ci troviamo. Il Musical Weekend si dedica alla formazione dei giovani, giovanissimi. Si tratta di giovani che un weekend al mese studiano dizione, recitazione, coreografie, canto, fanno moltissime attività artistiche. Chi è il vostro capo? Mister Kinshapue! Chi è il migliore? Mister Kinshapue! Ecco la tua zuppa di tavolo, non ho già. Che barba! Tutti i giorni zuppa di tavolo. Abbiamo un weekend al mese per 14 ore, ore di dizione. La parte recitativa è importante, la parte interpretativa. L'interpretazione non è solo recitazione, perché soprattutto nel Musical bisogna interpretare quando si danza, quando si canta e quando si recita. Per esempio io spesso faccio fare anche delle improvvisazioni, le abbiamo viste, dei momenti in cui diamo uno spunto e poi lasciamo che la loro fantasia, la loro inventiva possa scorrere e fluire liberamente. Diciamo che il Musical Weekend è un percorso a 360 gradi, che prevede le materie danza, anche tip-tap, che è una danza un pochino antica, ma funzionale a livello artistico, anche perché esorta i ragazzi a cimentarsi un pochettino sul ritmo e sul movimento. Diciamo che con la coreografia hanno una maggiore coordinazione e la difficoltà del Musical è proprio di abbinare le tre cose insieme, danza, canto e recitazione, quindi creare dei movimenti adatti a poter riuscire a cantare in maniera tranquilla, quindi il movimento deve essere adatto anche alla canzone che si va a preparare. Cerchiamo di formare dei veri e propri artisti che si esibiscono e quindi avranno questa esibizione finale che è la parte migliore di tutto il percorso.